Una volta con Jessica Rossi, campionessa olimpica a Londra con 99 centri su 100. Guardate cosa ne è uscito. Sei uno studente modello, Valtteri? Diciamo che la mia maestra è brava, veramente brava. E ha dovuto capire un attimo e adesso ha capito benissimo e ne sta rompendo tantissimi. Allora, ti piace questo sport? È un grande sport, mi piace molto. Ho molto rispetto per questi atleti, è molto difficile, c'è bisogno di tanto esercizio. Adesso però è il tuo turno. Dico, di provare la sua macchina, la sua monoposto. Sono un po' pericolosa io. Direi che lui oggi se l'ha cavata molto bene. Sono contenta anche che ha utilizzato il mio cucine, quindi non lo faccio utilizzare. Però il tifo è per lui. Ciao a tutti.